Volevo far notare che la filosofia non è una semplice speculazione logica astrusa, ma se portata fino in fondo, permette di scoprire l'incredibile, davvero permette di carpire il senso autentico dell'esistenza, oltre ogni immaginazione. Per cui il mio invito a chi intraprende questo percorso è di portarlo al termine. La cosa, secondo me, più scorretta è proprio fermarsi a metà strada, nel puro relativismo o approdando a varie concezioni più o meno dogmatiche dell'esistenza. Laddove, in realtà, anche il relativismo, portato alle estreme conseguenze, è una forma di dogmatismo. Il motivo per cui sono così portato, trasportato dalla filosofia di Severino è perché risponde proprio al massimo senso di rigore e autenticità della filosofia. Va proprio nel nucleo centrale dei temi fondamentali dell'ontologia e della metafisica. Ontologia e metafisica che sono alla base di tutti gli altri settori della filosofia. L'etica, la politica, l'estetica sono rami della filosofia che non possano prescindere da una certa impostazione metafisica e ontologica, ma vanno a presupporre una certa concezione della realtà, dell'essere, degli umani. Per cui le premesse di partenza metafisiche poi condizionano anche il modo di valutare, indagare e pensare negli altri ambiti della filosofia. Severino, lo ripeto, il più grande dei filosofi per l'eternità, ha spiegato nei dettagli qual è la premessa basilare, adottata più o meno consapevolmente da tutte le prospettive filosofiche, eccetto la sua, ovvero l'idea del divenire, l'idea che la realtà sia un insieme di cose che si trasformano, si annullano e si creano. Laddove anche il concetto di trasformazione implica l'annullarsi di qualche aspetto e il crearsene di nuovi. Ecco, il divenire quindi come premessa risulta adottata acriticamente un po' ovunque, in misura diversa, in varie misure, ed è impossibile quella concezione in quanto autonegantesi, proprio perché deve assumere quella struttura che Severino ha rilevato, quella della opposizione come differenza tra essere e non essere, tra il positivo e il negativo, senza riuscire poi a mantenerla. In quanto, da una parte afferma che A non è B, che l'essere non è il nulla, ma dall'altra dicendo che A diventa B, o che A smette di essere A e incomincia ad essere B, o che semplicemente A non esista più e incomincia ad esistere B, sta implicitamente affermando l'identificazione degli opposti, dicendo che A diventa B e dunque è B, oppure che A non è più A, e B, che inizialmente è posta come non essere, incomincia ad essere B. Ecco, in questi passaggi si avrebbe l'impossibile entificazione del nulla e la sua identificazione con l'essere, nonché il contrario. Questa base è impossibile, non perché semplicemente contraddittoria, ma in quanto autonegantesi, ovvero proprio il fatto di adottare quella premessa base, che è comunque la premessa che vige in ogni prospettiva a un livello implicito, per poi però affermare delle implicazioni contrarie ad essa, che portano quelle filosofie, quelle forme di pensiero, ad autonegarsi e quindi ad essere per forza false. Da questa struttura Severino ha dedotto, pertanto, che tutto è eterno, non nel senso che, per esempio, un albero esista sempre in ogni momento della realtà, ma che ogni momento della realtà, e quindi anche ogni momento dell'albero, esista sempre e atemporalmente, anche quando non appare ancora, e anche quando non appare più nella nostra esperienza cosciente. Oltre la nostra esperienza, oltre il nostro orizzonte, vi sarebbe l'apparire infinito, quale luogo che include tutti gli aspetti della realtà e tutti gli istanti dell'esistenza. Ecco, noi saremmo una parte di questo apparire infinito, di questa coscienza infinita, che sperimenta in modo processuale tutti questi contenuti, e quindi, proprio a causa di questa modalità, è persuasa che le cose si trasformino, e quindi è persuasa del divenire. Ecco, mi fermo qui, di solito propongo questo tipo di osservazioni sintetiche sulla filosofia di Severino, sperando che più persone possibili se ne interessino. Grazie a tutti.